salve a tutti carissimi e bentornati in questo spazio dove quest'oggi condividerò con voi forse uno dei miei video più importanti per quanto riguarda la dimensione socio-politica e così andrò anche a chiudere il discorso che abbiamo aperto nei precedenti video dove abbiamo analizzato un po il clima politico italiano che tipo di dibattito c'è quali sono gli elementi cruciali abbiamo anche pertanto riflettuto sulla situazione politica europea e occidentale questa grande polarizzazione questo scontro tra due visioni del mondo una visione che tende ad essere in un certo modo definita populista sovranista e una visione definita liberal democratica progressista globalista negli stati uniti abbiamo visto questo scontro nella sua massima espressione direi ma anche in italia estremamente forte ovviamente l'italia più piccola determina influenza molto poco gli equilibri del mondo gli stati uniti sono un'altra cosa allora nei precedenti video ho sostenuto e gran parte di voi ha condiviso con me l'idea che comunismo idee di sinistra e non possiamo dire fascismo idee di destra quando si radicalizzano e succede quasi sempre generano iniquità distruggono la società quindi mi sono permesso di dire che ogni ideologia è in realtà un'idiozia qualcuno mi ha sottolineato degli aspetti reali ha detto sì ma guarda che il comunismo ha portato avanti delle lotte contro il capitale contro i padroni che hanno schiacciato il proletariato contro gli oppressi gli ultimi che sono state battaglie fondamentali giusto però qualcun altro ha anche osservato sì ma delle idee più definite di destra che tutelano maggiormente la libera impresa l'iniziativa privata che hanno una maggiore attenzione al al suolo patrio alla famiglia alla tradizione hanno anch'esse in un certo modo bilanciato e combattuto degli squilibri ideologici che una visione eccessivamente di sinistra naturalmente sviluppa sono d'accordo però più o meno tra le righe altre volte in maniera netta e chiara e adesso sarò più chiaro possibile ho cercato di condividere con voi il fatto che la risposta non sta in questa con in questo continuo gioco di equilibrio tra due visioni per certi versi opposte in altre situazioni addirittura complementari se vorremmo complessificare il discorso perché ad esempio la visione della nazione sovrana la visione populista ad un certo punto inizia a ridare forza allo stato lo stato dentro una certa strutturazione dei suoi usi dei suoi costumi dei suoi feriti e quindi la libera impresa inizia a e la libertà degli individui come abbiamo visto nel fascismo nel nazismo inizia a distinguersi inizia a mancare di respiro la stessa cosa lo fa il comunismo nel momento in cui tenta di dare a tutti attraverso un livellamento un'imposizione quindi lo stato deve farsi dominatore in un certo modo non è più uno stato che amministra e attraverso dei processi democratici continuamente stabilizza un equilibrio interno che ascolta tutte le istanze delle persone ma divene uno stato totalitario uno stato totalitario che livella diciamo in maniera macroscopica questa definizione per abbreviare livella tutti però c'è un partito estremamente potente magari non economicamente ma un potere sugli individui mostruoso dall'altra parte si assomigliano molto dall'altra parte anche l'estremizzazione delle visioni di destra porta dei totalitarismi ad esempio il fascismo o il nazismo che schiacciano completamente gli individui e li silenziano silenzia il dissenso e viene data una struttura da seguire ci può essere dio l'amor di patria i suoi riti una certa distribuzione dell'economia magari più meno livellata e più divisa in incetti sociali però alla fine tutto viene estremamente irrigimentato e controllato e quindi si assomigliano i poli estremi hanno una loro essenza simile eraclito diceva che nel mondo dei contrari gli opposti coincidono e aveva tanta ragione allora la questione vera il noccello del problema veramente fondamentale da comprendere è come mai alla fine l'essere umano imbocca una strada che può essere adesso sapete che si usa molto essere democratici liberali europeisti di destra oppure di sinistra ma una destra di centro o una sinistra di centro proprio per evitare quel che la storia ci ha mostrato cioè gli estremismi proprio per evitare che si rientri in una costruzione totalitaria e oppressiva ma come mai alla fine si scivola sempre all'estremo e questo è il punto da comprendere perché alla fine gli uomini anche se diciamo che le nostre strutture democratiche avrebbero le basi gli elementi per una buona dialettica per continuare ad equilibrare in un certo senso l'intervento dello stato quando l'iniziativa privata eccede esce dai suoi argini e crea un danno alla società come totalità e allo stesso tempo quando lo stato inizia a cristallizzarsi e paralizzare l'iniziativa dei singoli individui della dell'impresa della del privato ecco noi abbiamo i mezzi gli strumenti politici economici sociali per mantenere un equilibrio però perché alla fine salta tutto e vediamo che siamo in una fase come abbiamo analizzato nei precedenti video dove l'equilibrio sta saltando il discorso si è polarizzato si è contrapposto stiamo andando agli estremi quindi sentiamo una certa dialettica molto forte che torna a parlare di nazione alcuni elementi all'interno di questo dialogare sono molto più equilibrati però c'è una paura di rivedere delle forme estreme di nazionalismo di chiusura di dimenticanza dell'altro desiderio di sopraffarre l'altro allo stesso tempo però stiamo vedendo un'azione estremamente iniqua bugiarda da parte di quelli che si definiscono di sinistra che strumentalizzano mostruosamente istanze e problemi reali importanti come l'accoglienza la redistribuzione della ricchezza il rispetto del diverso la tutela del lavoro proprio loro utilizzano questi strumenti come mantello che nasconde un'economia selvaggia un'economia neoliberista che è dietro questa finta facciata liberal democratica che si basa su alcuni elementi diciamo più etici della vecchia sinistra ma dietro c'è un processo di demolizione degli stati sovrani di demolizione della libera impresa ed ecco che si sta ricostruendo proprio nella sinistra una sorta di comunismo gestito non da uno stato non da un partito politico ma un comunismo offerto alle masse progettato programmato subdolamente da delle oligarchie che in un certo modo sostituiscono il potere del partito dello stato sono oligarchie estremamente ricche potenti trasnazionali che vedono nella globalizzazione la possibilità della costruzione di quello che è definito senza complottismi un nuovo ordine mondiale dove il mondo in una visione ideologica a mio avviso distopica perché non si realizza così l'unità comunque il mondo viene visto come finalmente unito sotto diciamo delle dei potentati delle oligarchie illuminate che guidano il gregge è questa visione e questa agenda questo programma è contrastato per il momento a mio avviso in maniera debole da movimenti di popolo soprattutto del ceto medio movimenti sovrani moderati e in alcuni casi non bisogna far finta che non esistano da rigurgiti di movimenti di estrema destra questa è un po la polarizzazione e lo scontro di due visioni del mondo che stiamo subendo attraversando l'italia dovrebbe veramente preoccuparsi e farsi il segno della croce o faccia quello che vuole se una persona è atea ma l'italia in mezzo allo scontro fra due mondi cioè lo strapotere della della cina comunista di xi jinping in questo momento e dall'altra parte un'america che a volte ammicca a volte contrasta senza dimenticare la vicinanza con l'orso russo quindi l'italia ha fatto un balletto in questi anni veramente preoccupante a livello politico dove di certo non è riuscita a smarcarsi e crearsi un po di respiro e libertà indipendenza sappiamo che a 110 basi nato statunitensi che ha preso poco alla stessa cosa e allo stesso tempo ha un tessuto accordi sempre più stretti con la cina e a volte strizza l'occhio alla russia ma questo è lo stato di psicopatologia di schizofrenia in cui versa l'italia ma veniamo alla risposta dal mio punto di vista la risposta non può avvenire da un piano programmatico mentale logico politico perché se guardiamo bene le diverse fazioni politiche tendono ad estremizzarsi non tanto perché non abbiano in sé degli elementi positivi che potrebbero fra loro armonizzarsi e dare direzione ma per la natura degli individui che fanno politica che fanno nazione stato quindi la natura dei politici la natura dei cittadini allora l'ho detto tantissime volte noi potremmo avere un governo di centro-sinistra moderato un governo di centro-destra potremmo avere un'economia un po' più basata sullo stato o un'economia un po' più capitalista non è lì il problema il problema è quando l'individuo inizia a contaminare l'azione collettiva inizia a contaminare il dialogo aperto l'ascolto delle diverse parti con la sua malattia interiore e qua arrivo al punto devo dirlo chiaramente l'individuo medio è malato psichico è malato di mente questo non vuol dire l'individuo medio cioè il cittadino no no mediamente trasversalmente dai ceti più alti ai ceti più bassi più poveri ceti più ricchi e ceti più poveri l'individuo è mediamente malato di mente se prendiamo atto di questa cosa che adesso analizzerò meglio ma se scopriamo ad un certo punto questa cosa comprendiamo perché ad un certo punto la politica esplode implode inizia a generare squilibri enormi polarizza la guerra il discorso fra le diverse posizioni che potrebbero essere ottime potrebbero dare appunto un movimento armonico comprendiamo facilmente perché si generano oligarchie che squadrano che mettono ideologicamente sopra la vita dei molti l'idea del giusto che loro vogliono raggiungere noi continuiamo a perdere la dialettica democratica la dialettica liberale realmente liberale umana perché siamo malati allora uno dice ah sì e perché non ce ne accorgiamo perché essendo mediamente tutti malati la malattia è riconosciuta normalità e la persona sana viene emarginata dal mio punto di vista coloro che hanno offerto discorsi ampi che potevano permettere una crescita un cambiamento sono stati sistematicamente emarginati distrutti magari a livello sociale politico silenziati ed oggi siamo ahimè in uno scontro estremamente acuto tra posizioni e vediamo che tutte le voci libere di indipendenti che cercano di offrirci magari una terza una quarta una quinta strada più armonica vengono sistematicamente silenziate attraverso la censura dei social media attraverso la censura degli organi di informazione ufficiale che non permettono a certi giornalisti certi intellettuali di esprimersi quindi una società mediamente malata è più facile che metta al potere chi è particolarmente grave in una forma di malattia simile ed escluda e margini silenzi le persone più sane perché le vede come lontane aliene dal suo modo comune di pensare qual è la malattia che trasversalmente sta devastando la nostra società l'egocentrismo l'essere umano non è ciò che dovrebbe essere non è non diviene ciò che potrebbe essere il bambino viene deviato nel percorso sano della sua crescita e viene alimentata la natura egocentrica egoica narcisista dell'individuo del bambino quando in realtà l'individuo viene al mondo con occhi meravigliosi limpidi colmi di luce di innocenza di desiderio di scoprire di vivere di essere accompagnato a conoscere limiti e potenzialità quindi nasce con una potenzialità enorme di essere di divenire un essere luminoso però la società in cui è immerso è mediamente malata e quindi vediamo svilupparsi tendenze aggressive predatorie a livello economico a livello politico a livello anche intrafamiliare vediamo svilupparsi forme patologiche di ossessive compulsive soprattutto in questo periodo forme suicidarie desiderio di morte depressione tutte cose che non sono parte della natura più profonda più luminosa dell'essere umano quindi in un certo senso noi facciamo in modo che i bambini divengano dei pessimi adulti allora avendo pessimi adulti che non si conoscono che hanno paura degli altri che hanno paura della morte come possiamo pretendere che si fatta specie di individui governando o essendo governata possa gestire in maniera equilibrata la cosa pubblica lo stato la cultura il progresso l'innovazione com'è possibile non è possibile allora la prima cosa da fare è accorgerci che siamo immersi in una società folle malata che sviluppa paura aggressività chiusura cattiveria e sviluppa un individuo frammentato ad esempio oggi abbiamo una costruzione sociopolitica sociopolitica estremamente tecnica burocratica scientista non scientifica la scienza è una dialettica continua di indagine scoperta legata a il significato della vita umana io scopro indago e sviluppo scienza per dare più bellezza più pace più serenità all'individuo noi abbiamo uno scientismo lo scientismo vede all'esterno il dominio della materia il dominio degli individui il controllo come risposta ad ogni forma di paura di inquietudine rimossa che l'individuo ha rimosso non guardando più nel suo spazio interiore quindi abbiamo governi sempre più tecnici abbiamo gli illuminati che ci governano cioè senza complottismi persone che si ritengono superiori che sono transnazionali al di là degli stati non sono i politici sono i grandi potentati internazionali le corporation i grandi filantropi che si percepiscono superiori e che squadrano il mondo da un punto di vista ideologico molto scientista molto freddo mentale perché hanno perso progressivamente abbiamo perso il contatto con la nostra dimensione più profonda che è fatta di compassione empatia che è la percezione dell'altro amore non amore passionale amore potremmo definire l'amore come agape amore incondizionato il prendersi cura attraverso l'empatia percepisco attraverso l'azione d'amore mi prendo cura queste dimensioni sono state sempre più soffocate potremmo anche chiederci ma com'è successo questo io credo che una società ami sempre meno nel momento in cui acquisisce un eccessivo benessere che offre la possibilità di sviluppare visioni estremamente egoiche narcisiste se guardiamo la società occidentale dal dopoguerra ad oggi ha iniziato ad avere sempre meno figli ha iniziato ad avere una visione individualista sempre più forte dove il mio piacere è il senso del mio futuro avere figli è in realtà una diluizione dell'attenzione che io posso dare a me stesso come soggetto egoico quindi un figlio con due genitori a volte nemmeno quello più animali cani e gatti che figli e oltretutto cani e gatti che posso anche riportare al canile quando serve o lasciare in strada la società è invecchiata invecchiando senza figli si ha uno scarso senso del mondo che lasceremo a qualcuno perché a chi lo lasceremo e si tenta in ogni modo di combattere contro la morte e la vecchia e la malattia per affermare continuamente la mia esistenza come singolo individuo cristallizzato nell'egoismo nell'egoicità questo è avvenuto proprio perché in realtà non abbiamo mai avuto una profonda connessione spirituale una connessione con le parti più profonde della nostra psiche del nostro mondo emotivo e pertanto una rapida acquisizione di benessere ci ha come chiusi in una bolla di cecità, di sordità emotiva, psicologica una sordità al pensiero critico e non abbiamo più criticato noi stessi non abbiamo più criticato la società che stavamo costruendo e non abbiamo nemmeno osservato il male che veniva fatto ad altre società intorno a noi ed ecco che siamo giunti a questo punto allora io credo di aver fatto una bella pirouette da 360 gradi ora c'è da chiederci cosa possiamo fare? beh, primo, vedere tutto ciò e divenirne pienamente consapevoli se diveniamo consapevoli totalmente di ciò che ci sta distruggendo ecco che iniziamo a porre attenzione a cosa può cambiare la situazione cioè demolire sempre più dentro di noi la struttura egoica, il ramo spurio di coscienza come l'abbiamo definito usando le parole stupende di Ramana che continuamente ci rende alienati al movimento unico della vita, quindi all'amore quindi al desiderio anche di avere figli di lasciare un mondo in mano ai nostri figli più eco noi adulti ci dobbiamo occupare di una potente ricerca spirituale che ci porta un po' alla volta a ripulirci sempre di più a liberarci sempre più da quel fantasma che ci sta praticamente possedendo noi siamo posseduti da un fantasma che è la nostra personalità come abbiamo, spero, lungamente trattato in altri video il suono attraverso la maschera noi non conosciamo il nostro volto originale che portavamo quando siamo venuti in questo mondo come bambini bambini dalle infinite possibilità innocenti fiduciosi capaci di amare abbiamo lentamente costruito una maschera che ha deformato il nostro volto e forse non è un caso che oggi giriamo tutti mascherati siamo all'apice della costruzione di una di una sovrastruttura che non ci permette più di sentirci, toccarci, vederci e vivere in maniera coraggiosa tutto ciò si deve demolire per lasciare spazio per far riemergere quel bambino fiducioso capace di creare, sperare giocare armonioso con i suoi amichetti capace di essere parte della meraviglia della vita ma tutto ciò non è poesia è realtà che si fa giorno per giorno attraverso un faticosissimo lavoro di introspezione di analisi è come se dovessimo riportare al centro questioni di carattere psicologico terapeutico filosofico umanistico la vera battaglia non è destra-sinistra ma è che è una dimensione orizzontale ma è verticale profondità o banalità la vera battaglia non è nelle super analisi di come sta andando l'economia lo spread o le patetiche divisioni e frammentazioni polarizzazioni della politica ma la vera battaglia è un'onda culturale io dico proprio uno sforzo psicologico interiore filosofico per certi versi anche religioso ma la religione grazie ad un programma ben studiato è stata quasi paralizzata inquinata demolita però è un atto un'azione spirituale profonda è questo sforzo che dobbiamo rimettere al centro noi come adulti per noi stessi per vivere bene e soprattutto per non sovrapporre la maschera del terrore un'altra maschera dell'orrore ai nostri bambini perché solo così possiamo essere genitori capaci di guidare senza deformare di accompagnare verso la luce senza spegnere quella fiamma che c'è nei bambini solo così possiamo essere finalmente insegnanti che sono anche educatori e non formatori istruttori che semplicemente portano avanti un programma di istruzione da istruire cioè strutturare confinare dare forma al bambino quando in realtà il bambino può essere uno spazio immenso di coscienza noi lo strutturiamo e così costruiamo persone molto condizionate robotiche non libere nel pensiero incapaci di amare e lì si generano tutti i grandi guai incapaci poi di governare incapaci di portare giustizia equità onestà nei loro lavori allora avremo il politico corrotto avremo l'imprenditore corrotto il piccolo amministratore di comune corrotto il cittadino povero e corrotto oggi c'è una sorta di idolatria verso il povero il povero ha meno potenza ha meno strumenti per far danno ma non è scritto da nessuna parte che poveri migranti siano tutte persone illuminate meravigliose abbiamo proprio confuso tutta una serie di piani e di consapevolezza dal mio punto di vista se ci siamo capiti diciamo che il partito che non esiste che dovrebbe nascere è più che un partito politico è un movimento di coscienza non il movimento come abbiamo visto negli anni passati che ha parlato unicamente un linguaggio violento della politica per distruggere gli equilibri politici e poi infiltrare un'altra forma di politica ma dobbiamo generare un movimento di coscienza che lavora sulla guarigione da questa malattia il problema dell'essere umano è che non conosce se stesso e continua a passarsi il testimone malato di generazione in generazione di una costruzione psicologica patologica io credo che dobbiamo mettere al centro dell'attenzione questa verità non è la sinistra o la destra che possono guarire l'inconsapevolezza dell'essere umano è un lavoro lungo lo so molti si fanno affascinare dall'ultimo politico che arriva gridando adesso cambierò tutto e non comprendono che è inutile cambiano la superficie possono darci un momento un po' più di respiro dopo una strozzatura ma tornerà l'onda di distruzione di frammentazione di polarizzazione perché non stiamo perseguendo il bene comune perché non ci muoviamo ognuno per le sue competenze e le sue possibilità liberi nella mente e nel cuore capaci di amare e per quello che ho detto l'articolo primo della costituzione dovrebbe essere basato sulla sull'educazione sullo sviluppare una società fondata sull'amore e la conoscenza di se stessi perché chi sa amare e conosce se stesso e si è liberato da quella finta personalità che tanto compiaciuti spesso sfoggiamo ecco è l'unica persona che poi darà un contributo positivo efficace e forte per costruire una società coesa abbiamo visto che la natura è un unico organismo l'abbiamo visto distruggendola dobbiamo ancora comprendere che l'umanità come insieme di tutti i singoli individui è un unico organismo e quando noi speculiamo in Medio Oriente bombardiamo quando distruggiamo l'Africa quando sfruttiamo paesi orientali l'onda del dolore ritorna a casa nostra non abbiamo ancora nemmeno capito questo questo è un lavoro educativo che l'adulto deve fare su se stesso e poi deve fare sui suoi figli sui suoi studenti sui ragazzi che deve formare quindi poi la politica migliorerà ma come movimento carbonaro sotterraneo dobbiamo portare avanti questa liberazione interiore ne parlerò ancora entrerò nel dettaglio perché lo so la gente e questo è il guaio si disinteressa quando parli di cose che riguardano il tuo mondo interiore e devi tenere un atteggiamento quieto pacato devi aiutare la persona ad osservare osservare cose spiacevoli spesse volte limiti paure ma questo è il lavoro noi dobbiamo vedere che cose abbiamo costruito sovrapposto e scoprire che in realtà siamo un qualcosa di meraviglioso di immenso ed ecco che forse ci riavvicineremo alla vera spiritualità la vera religione intesa come riunire tutti perché arrivando in fondo in fondo alla nostra natura o elevandoci usate la metafora che preferite iniziamo a risentire la voce del trascendente del sacro iniziamo a comprendere che siamo questo corpo limitato questa mente limitata ma siamo anche un qualcosa di immensamente più vasto questo secondo me è il sentiero la direzione quindi io sostanzialmente mi rivolgo soprattutto alle persone che hanno figli alle persone che vogliono liberarsi come adulti per loro stessi alle persone che lottano ad un livello educativo psicologico spirituale secondo me queste persone sono la vera speranza per il futuro la politica poi è si modifica da sé quando la coscienza cambia è sbagliatissimo pensare che da sopra qualcuno possa cambiare la massa sotto è un virus benefico il cambiamento tanti singoli individui che si contagiano allora si genera come diceva Nisargadatta un clima diverso psicologico emotivo che influenza anche le scelte e le direzioni politiche allora non sarà più un problema sinistra destra avremo una riflessione su diversi punti di vista della vita su diversi valori che continuamente troverà amorevolmente un equilibrio la politica tornerà ad essere buona amministrazione di individui liberi e pacifici la politica degenera quando gli individui sono sempre più oscuri impauriti e pertanto esprimono essi stessi il desiderio di essere controllati e dominati guardate il tempo che stiamo attraversando preferisco essere vivo ma schiavo preferisco essere guidato e non pensare che pensare e dovermi autogestire quindi la politica che abbiamo creato è la polarizzazione del discorso su tutti i fronti il tema della sessualità del genere dei migranti l'economia abbiamo polarizzato tutto perché in realtà non siamo più connessi da una condizione spontanea di affetto e di amore che metterebbe subito in armonia queste frivole discussioni lo ripeto abbiamo perso l'amore per il futuro per i figli ci siamo chiusi innamorandoci di denaro di oggetti di cose negli anni in cui l'economia saliva ci siamo chiusi alla vita ci siamo chiusi dentro una gabbia dorata che adesso ci fa sentire prossimi al niente alla morte e adesso ancora peggio rifiutiamo anche quel che abbiamo generato rifiutiamo la naturale fine della vita e vogliamo in un certo modo paralizzare il mondo quasi spegnerlo spegnete tutto ma lasciatemi vivere una vita senza più alcun senso questa è stata la causa che ci ha portati verso una sempre più profonda inconsapevolezza di chi siamo certo è che anche prima evidentemente non eravamo non c'era un numero sufficiente di persone ben radicate nella loro parte più spirituale più profonda altrimenti non si sarebbe generato questo ma la vita si sta la storia ci sta mostrando una ciclicità di questo movimento ci risvegliamo un po' dopo fatti tremendi ma più che altro come ho espresso anche nel mio libro il virus benefico è una sorta di reazione condizionata all'orrore non è un vero risveglio è paura di noi stessi allora collaboriamo perché abbiamo visto cosa siamo capaci di fare quando diviniamo oscuri io sto parlando di un risveglio totale che non nasce perché ci siamo terrorizzati di noi stessi come il dio Pan che ha un attacco di panico quando sente la sua potente voce sto parlando di un risveglio che c'è stato parlato dai grandi maestri c'è stato passato il testimone ma l'abbiamo nascosto l'abbiamo dimenticato c'è stato detto chi siamo realmente cosa possiamo realizzare signori io qua chiudo il discorso socio-politico magari ci ritorneremo adesso cerchiamo di lavorare sempre di più sulla comprensione del ramo spurio di coscienza sulla comprensione delle nostre strutture condizionate e lavoriamo sempre più volti a far sbocciare il nostro potenziale a renderci sempre più umani capaci di amare e di crescere bambini felici e sani perché credo che soprattutto oggi i nostri bambini se lo meritino abbiano un profondo bisogno di genitori che tornano ad essere genitori non so cos'altro dire vi mando un carissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti